Ciao ragazzi e benvenuti, io sono Antonio e anche questa settimana nuovo video a tema Harry Potter. Oggi voglio fare un book haul che però è un po' particolare perché comprende anche dei titoli che avevo acquistato in passato ma che poi ho messo da parte, libri che ho assolutamente dimenticato di recensire e altre cose. Quindi adesso ne parleremo meglio nello specifico, faremo un punto della situazione e poi programmeremo i prossimi video. Ma prima di cominciare vi ricordo che su Pampling, utilizzando il codice sconto 7 Potter, avrete il 20% di sconto su tutti i vostri acquisti da qui all'eternità. Questa maglietta ormai la conoscete, l'ho indosso da tempo, l'ho presa proprio su Pampling e, qualora vi potesse interessare, anche i calzini che indosso in questo momento vengono da Pampling. Ma detto questo direi di cominciare. Intanto voglio parlarvi del nuovo libro di Marina Lenti. Molti di voi ricorderanno questo nome perché è l'autrice di questo libro, J.K. Rowling, l'incantatrice di 450 milioni di lettori. Io ho amato particolarmente questo libro dedicato alla vita di J.K. Rowling, ne feci anche una recensione, ve la lascio nelle schede e successivamente Marina mi inviò molto gentilmente anche questo qui che si intitola Il Cibo come strumento letterario e anche quest'altro libro qui che invece si chiama La Metafisica di Harry Potter. Naturalmente queste li troverete sotto linkati in info box, ma chi è Marina Lenti? Per chi non lo sapesse, Marina Lenti è una delle massime esperte a tema Harry Potter e Wizarding World in Italia. Infatti ha anche collaborato con la stesura del lexicon italiano. E naturalmente oggi vi parlo di un nuovo libro che Marina Lenti mi ha gentilmente inviato, ma che ancora non mi è arrivato perché probabilmente le poste lo hanno perso. Però mi faceva comunque piacere segnalarvelo, visto che adesso si avvicinano le feste natalizie e il libro si chiama Harry Potter a test. Si tratta di un intero volume di giochi di quiz a tema Harry Potter. Mi sarebbe tanto piaciuto mostrarvelo da vivo, parlarne con voi, sfogliarlo, fare qualche test, ma purtroppo non mi è ancora arrivato. Quindi qualora mi arrivasse successivamente, io spero proprio di sì, sicuramente troveremo il modo di sfruttarlo. Quindi io ringrazio tantissimo Marina Lenti per avermelo inviato. Ringrazio un po' meno le poste italiane che probabilmente l'hanno perso. E ragazzi, quindi tutti questi libri li trovate sotto in infobox. Ma adesso passiamo ad altri libri che ho acquistato e che mi sono completamente dimenticato di recensirvi. E si tratta del terzo volume illustrato da Jim Kay di Harry Potter, il prigioniero di Azkaban. Io credo di avervelo solo unboxato sul canale, ma in tantissimi mi avete mandato messaggi chiedendomi la recensione di sfogliarlo assieme. Ragazzi, arriverà assolutamente la recensione di questo volume che mi ripromettevo di fare continuamente, ma che poi ad un certo punto ho proprio dimenticato. Quindi qui lo dico e qui non lo nego, a breve arriverà il video dedicato a questo volume e lo sfoglieremo assieme. E rimanendo in tema, io voglio anche farvi vedere quest'altro libro qui che non vi ho ancora recensito a distanza di oltre un anno. Si tratta della versione illustrata delle fiabe di Bedelbardo, illustrata da Chris Riddle. Anche questa è edita da Salagno Editore e ragazzi, io anche di questo me ne ero proprio dimenticato. Sono assolutamente una persona orribile. E questo qui vale assolutamente il prezzo pagato. A me era piaciuto tanto quando lo sfogliai da solo per i fatti miei e volevo assolutamente parlarvene. Anche perché, come saprete, io possiedo la Collector Edition di Le Fiabe di Bedelbardo. Ci fece un video che è stato molto visto e vi invito ad andare a guardarlo qualora ve lo foste perso. È un video abbastanza vecchio, ma lo trovate tranquillamente sul canale utilizzando il cerca. Quindi ragazzi, anche questo è un recuperone che dobbiamo andare a fare e naturalmente arriverà successivamente al prigioniero di Azkaban anche la recensione delle fiabe di Bedelbardo. E ovviamente, detto questo, io ho già acquistato ed ho appena ricevuto, davvero da pochissimi giorni, anche il Calice di Fuoco, illustrato sempre da Jim Kay. Questo è molto più spesso degli altri libri. Non l'ho ancora neanche sfogliato, non ho avuto proprio neanche il tempo. Mi piace tantissimo la copertina che qui riporta la prima prova del Torneo Tre Maghi, quella col Drago. Abbiamo Harry, abbiamo Lungaro Spinato e gli Spalti con tutti i vari studenti di Hogwarts. A me piace tantissimo lo stile di Jim Kay, che da un certo punto di vista, secondo me, si basa molto sui personaggi e sulle ambientazioni che abbiamo visto nei film. Trae molta ispirazione dai film. Però mi piace tantissimo il suo stile. Non vedo l'ora di scoprire quali tavole siano contenute all'interno e vi dirò, non l'ho pagato neanche tanto perché il prezzo di copertina è di 39€, però io l'ho acquistato col 25% di sconto perché Salani sta facendo, o faceva fino a qualche settimana fa, il 25% su tutti i suoi titoli. Quindi l'ho pagato meno di 30€. Quindi direi che è stato un buon affare. E questo, ragazzi, è il regalo di Natale 2019 ufficiale a tutti gli effetti che, secondo me, ogni fan di Harry Potter deve farsi o farsi fare. E ultimo volume a tema Harry Potter che dobbiamo ancora recensire e che mi ha inviato Panini Comics, che ringrazio tantissimo, è Formule e Incantesimi. Si tratta di un altro di questi piccoli libri cartonati editi da Panini Comics che all'interno contengono tanti gadget, mappe, adesivi e cose molto molto carine. Quindi anche di questo qua ne parleremo presto, è uscito da poco e naturalmente vi linko tutti questi volumi sotto in infobox. Quindi, ragazzi, abbiamo fatto un po' il punto della situazione sulle ultime uscite letterarie ufficiali e non a tema Harry Potter e quindi ditemi sotto nei commenti con quali preferireste che io iniziassi a fare video così magari do una scaletta, do un ordine. Io vorrei cominciare da quelli illustrati, però fatemi sapere voi quali avete fretta di vedere magari perché dovete farveli regalare per Natale, e volete acquistarli, così cercherò di seguire i vostri consigli. Fatemi sapere anche se voi li avete già acquistati, se li conoscevate, se vi sono piaciuti o meno. Mi raccomando, siamo qui per discuterne assieme e per avere uno scambio di opinioni. Detto questo, ragazzi, io vi ringrazio per aver visto questo breve video di riepilogo e naturalmente vi invito a lasciare un mi piace, commentare, iscrivervi al canale quando non foste ancora iscritti e seguirmi su Instagram, antonio.seria. Vi ricordo che in Infobox trovate la mia vetrina Amazon. Amazon mi ha contattato, siamo diventati una sorta di negozio potteriano, quindi sotto ho realizzato un negozio a tema nerd, tema Harry Potter, Trono di Spade e tante altre cose, anche libri, all'interno di Amazon, con prodotti tutti scelti da me. Naturalmente, qualsiasi acquisto fatto all'interno di quella vetrina mi verrà riconosciuta una piccolissima commissione da Amazon che mi aiuterà a sostenere il canale e a poter recensire sempre più in fretta tutte le novità potteriane. Detto questo, io vi ringrazio tantissimo e vi do appuntamento presto con tante altre novità. Ciao! Ciao!